Ore 7.30 della mattina, tutto pronto in molte case fanesi per la partenza del nuovo anno scolastico. Pronti via, si esce di casa e si va alla fermata dello scuolabus. Aspetta, aspetta, aspetta ancora, ma il bus non arriva. Panico! Il primo giorno non inizia proprio nel modo migliore. Mamme, papà, nonni si scatena il parapiglia per non far far tardi ai ragazzi. Ma che cosa è successo? E perché? Lo scuolabus non è passato, nessuno lo sa, ma tutti sono rimasti a piedi. Il pandemonio si scatena anche negli uffici dei servizi educativi del comune di Fano, dove fioccano centinaia di telefonate e gli operatori sono sepolti dalle proteste. Ho già piedati e io ho fatto domanda da lunedì, però so chi doveva iniziare da oggi, che al pulmino non è passato. Nessun avviso, nessuna comunicazione, fra l'altro abbiamo chiamato i servizi educativi alle 8 e mezza, ci hanno garantito che il ritorno c'era, e invece il ritorno non c'è. Non c'è, siete qui ad aspettare. Esatto. Come avete scoperto che non c'era? Non è arrivato, e quindi mi hanno fatto senza, siamo venuti a prenderli adesso. Qualche disagio, insomma? No, tanto disagio, perché chi prende il permesso, sapere che non c'è un pulmino, uno si organizza, invece qui siamo trovati a doverci abbattare un po' così. Le vedremo, loro ci hanno detto di aspettare le ipotetiche fermate, ma non il pulmino non passa. Cosa è accaduto? Ce lo spiega l'assessore ai servizi educativi, Samuele Mascarin, che abbiamo incontrato nella mattinata. Ma con un disagio vero e proprio, purtroppo, per tante famiglie, anche per i nostri uffici, e anche se non c'è una responsabilità diretta all'amministrazione comunale, mi sento in obbligo comunque di rivolgere una scusa alle famiglie, agli utenti, per i disagi che ci sono stati, perché purtroppo questa mattina il servizio di scuola bus non ha avuto avvio e purtroppo la ditta Tundo, che è a giudicataria della gara provinciale per il trasporto scolastico, che riguarda anche il territorio del Comune di Fano, non ci ha dato una comunicazione preventiva di questo fatto e questo ha creato evidentemente dei disagi. Ecco, gli utenti appunto cosa devono fare? Cioè, chi aveva il servizio deve fare nuova domanda? Cioè, cambia qualcosa dal punto di vista proprio pratico? Assolutamente no, dal punto di vista pratico non cambia nulla, rimangono valide assolutamente tutti i passaggi che le famiglie e gli utenti hanno fatto in queste settimane presso gli uffici. L'unica differenza è che il servizio partirà a partire dall'unidì prossimo, dall'unidì 19 settembre, e partirà regolarmente con gli orari, le tappe, le fermate che erano preventivate, che avremmo voluto, chiaramente, che la ditta potesse garantire già da questa mattina. Da lunedì, quindi, tutto dovrebbe riprendere come nella norma, sperando che tutto fili per il verso giusto. Nella giornata di domani comunque c'è dato di sapere che l'assessore ed il responsabile della ditta Tundo, che ha rilevato l'appalto provinciale, si incontreranno per chiarire la situazione. Grazie a tutti.